Io mi chiamo Diego Cusaro, insieme a Filosofia dell'Università San Raffaele, e ho il compito di introdurvi allo spettacolo che presto vedrete. Voi vedrete lo spettacolo speciale che riguarda la narrazione autobiografica di un uomo speciale nella storia occidentale, di nessuno. Chi è nessuno? Ulisse. Ma perché è speciale? Per tanti motivi, tanto perché voi siete abituati, quando pensate a Ulisse, a pensare ai poemi di Omero che raccontano di Ulisse dalla prospettiva del narratore. Narro le vicende di Ulisse, ma è poi la prospettiva tipica di chi racconta le vicende altrui. Oggi invece vedrete Ulisse che si racconta, che racconta la propria vicenda vissuta. propria storia. Perché nessuno? Come anche il titolo dello spettacolo mette in evidenza. Come mai nessuno? Per più ragioni, di cui vorrei sottolinearne due per aiutarvi a comprendere meglio lo spettacolo. Anzitutto, Odissio è nessuno perché è ciascuno di noi, e quindi è tutti. Ciascuno di noi, vedendo la rappresentazione, vedendo ciò che Odissio racconta del proprio passato, può immedesimarsi. Quindi Odissio è ciascuno di voi che state guardando lo spettacolo, e tutti insieme, potete immedesimare. Questo è il bello della narrazione teatrale, il fatto che produce immedesimazione, a differenza della storia. Quando leggete un libro di storia, leggete di Napoleone, di Giulio Cesare, ma non si parla di voi, si parla di un uomo specifico che ha compiuto imprese particolari. Ulisse, invece, è potenzialmente tutti. Ciascuno di voi può essere quello. È un personaggio, potremmo dire, in senso proprio. Ma poi c'è un altro motivo per cui Odissio è nessuno. È nessuno. Se ci pensate, come ricorderete molto bene, Odissio, per tutta la narrazione del poema omerico, continuamente si camuffa, nega la propria identità, non solo nell'episodio che ben conoscete con il ciclobe. Chi è che ne ha a ciecare? Nessuno. Ma poi ci sono tutta un'altra serie ricchissima di episodi in cui Odissio nega la propria identità. Pensate a quando approda a Itaca, sotto le spoglie del mendicante, non viene riconosciuto, per esempio. Pensate a quando approda sull'isola dei Feaci. Anche lì nega continuamente la propria identità, simula e dissimula. Perché in fondo Odissio ha un'identità instabile. Può diventare tutto. È camaleottico. Sappiamo che Odissio, fin dal primo verso del secondo poema omerico, l'Odissia, viene chiamato un greco poliutropos. Che vuol dire dei molti modi, multiforme. Non ha un'identità fissa. È instabile strutturalmente. La sua identità c'è, ma è un'identità fluida che gli permette di assumere molte forme diverse. Ulisse, come sappiamo, è colui che va in guerra, e quindi è guerriero. Ulisse, come sappiamo, è marito di Veneto, e quindi ha un'identità di marito. È padre di Telemano, e quindi è padre. Addirittura costruisce in maniera architettonicamente perfetta il proprio letto all'interno, a partire dall'ulivo, da un albero. E quindi appunto ha un'identità instabile. Odissio racconta con le sue avventure che cosa, come vedrete, in prima persona. Racconta il costituirsi della propria identità, della propria identità fluida e mobile. Racconta tramite la narrazione delle proprie avventure e disavventure che l'hanno portato per mare ad allontanarsi, ad andare in guerra e poi faticosamente a ritornare in patria dall'amata moglie. Racconta di come tramite un percorso costituito di incidenti e disavventure si è costituita pienamente la sua identità. L'identità è qualcosa che non è dato, ma deve essere costituito tramite il passaggio per l'errore e per il naufragio, se volete. Ulisse ci insegna, cioè, che ciascuno di noi, identificandosi con nessuno, deve guadagnare la propria identità, deve diventare se stesso, deve imparare ad essere se stesso. Noi non nasciamo come noi stessi, ma dobbiamo diventare. E anche le disavventure, gli incidenti, i momenti in cui sembra che ci perdiamo nella nostra vita, sono momenti in cui in realtà acquistiamo coscienza di noi, diventiamo pienamente di noi stessi. Ecco, Ulisse ci insegna che la costituzione della nostra vita, della nostra identità, è un processo in cui anche l'errore e il negativo hanno qualcosa di positivo, perché servono a fare esperienze. Ulisse e l'Odissea sono un grande poema, come vedremo, di narrazione dell'esperienza come via per diventare noi stessi. Ulisse è un padre che ritorna in patria. Ci insegna in qualche modo l'importanza della legge e della giusta misura. Voi sapete che quando torna a Itaca, trova Itaca occupata, invasa dai proci, dalla lunga notte dei proci, che conzovigliano senza alcun rispetto per le leggi della casa, senza alcun rispetto per uomini e donne. Ulisse torna a portare la legge. Ecco, è l'immagine fondamentale del padre come gesto simbolico che impone la legge contro la dispisura. Questo è molto importante, il tema ricorrente Telemaco dice, mentre aspetta il ritorno di Ulisse, più di ogni cosa desidererei il ritorno del padre. Ecco quello che manca oggi, forse. Il ritorno di un padre che ci insegni a rispettare una legge, a vivere nella legge evitando gli eccessi della dispisura. Quindi questa è una grande narrazione che ci parla ancora oggi. Ancora oggi parla al mondo contemporaneo. Non smette mai di parlare, non solo perché, come si dice, è un classico, ma per il fatto che Odissio siamo noi e nessuno siamo noi. Vi invito poi, prima di lasciarvi allo spettacolo, ad andare sulle reti sociali, in particolare su Facebook, e a cercare Cargham Scuole. Se vi piacciono queste attività tecnologiche, potete seguire le attività del Cargham sulla pagina Facebook e appassionate anche voi. Buon appetito!